Un saluto dal Tg della mobilità, qualità dell'aria anche oggi, prosegue lo stop ai veicoli più inquinanti, dalle 7.30 alle 20.30 all'interno della fascia verde dovranno fermarsi le auto a benzina Euro 2, moto e motorini Euro 0 e 1. Inoltre dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 lo stop sempre nella fascia verde sarà anche per le auto diesel Euro 3. Il blocco si aggiunge a quello permanente H24 da lunedì al venerdì festivi esclusi, ancora in fascia verde, per le auto a benzina Euro 0 e 1 e per quelle diesel 0, 1 e 2. Via Latina è chiusa per voragine all'altezza di via Luzio in direzione di via Baronio, chiuse anche via della Caffarella in direzione di via Latina e via Cesare Baronio all'altezza di via Latina in direzione di via della Caffarella. Sono deviate le linee 87, 628 e 628. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.